È il giorno del primo test amichevole per il Foggia che questo pomeriggio a Montjové sfiderà Livrea, rappresentativa di promozione, dunque una rappresentativa dilettantistica, ma sarà un test che consentirà a Zdenek Zeman di fare un po' le prove generali per capire anche quello che è il materiale attualmente a sua disposizione in questo ritiro valdostano, soprattutto per verificare quello che è il materiale in prova, i calciatori che attualmente stanno trascorrendo un periodo di prova agli ordini di Zdenek Zeman e che avrà la possibilità dunque attraverso questa prima, primissima amichevole, di capire su chi eventualmente poter fare affidamento e chi invece magari nei prossimi giorni sarà costretto ad abbandonare il ritiro rosso-nero. Questa mattina riposo per il Foggia, seduta tecnica all'interno dell'hotel che ospita il ritiro rosso-nero, l'hotel Miramonti. La squadra raggiungerà direttamente nel pomeriggio l'impianto di Montjové dove appunto alle 18 è in programma questa partita. Tra l'altro vi dico, piccola curiosità, che stanno arrivando proprio in questi minuti a Montjové, a Chattillon, ma anche a San Benzane, abbiamo avuto modo di incontrarne più di qualcuno, tanti tifosi residenti soprattutto da queste parti che non hanno perso l'occasione, insomma non vogliono perdere l'occasione per vedersi la prima uscita del Foggia. Il campo alle mie spalle invece, quello che vedete alle mie spalle, è quello di Chattillon, dove in questo momento è in corso la seduta d'allenamento dell'Inter femminile. Inter che tra l'altro condivide proprio l'albergo con il Foggia. Inter allenata da una vecchia conoscenza del calcio femminile nazionale, Rita Guarino. Ma torniamo alle vicende del Foggia, come detto è il giorno del primo test e anche il giorno dell'arrivo di Rocca, Michele Rocca, che probabilmente potrà essere uno dei punti fermi del Foggia di Zeman. Foggia che ieri ha perfezionato l'operazione che ha portato in rosso-nero il centrocampista Andrea Rizzopinna, classe 2000, si è legato al Foggia come detto fino al 30 giugno 2023, è un centrocampista milanese cresciuto nei settori giovanili di Atalanta, Inter e Spal. Da ieri si allena gli ordini di Zeman, tra l'altro anche un difensore centrale, si tratta di Giacomo Sciacca. Arriva dalla Vibonese, dove nella passata stagione ha collezionato 29 presenze. Anche lui cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Sciacca che sicuramente, insomma, un giocatore, nonostante la giovane età di esperienza, a 25 anni, potrebbe essere, insomma, tesserato nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Vi rimando ai prossimi appuntamenti con la nostra informazione. Vi aggiorneremo ovviamente sul risultato della prima amichevole e più avanti poi vi manderemo anche le immagini con i primi gol rosso-neri della stagione 2021-2022. Per il momento è tutto. Grazie a voi per l'attenzione. Linea alla rete.